Allora, buongiorno, da Italia Azul 4, Victor Quebec Serra, vinco quasi sempre il quasi che mi frega, in direzione del Monte Ragola, Italia Eco Romeo 012, c'è un simpatico sentiero, si parte dal passo dello Zovallo, si lascia il mezzo lì e si fa il Monte Zovallo, poi una breve discesa, una breve sella e poi si risale verso il Monte Ragola, in provincia di Piacenza e la salita va. Ci sentiamo dopo. Ok, siamo in cima al Monte Zovallo e quello laggiù è il Ragola. Quindi adesso avremo una piccola sella, poi si risale su un sentiero di Crinale, abbastanza ripido, portare attenzione nella stagione invernale quando c'è ghiaccio. In questa stagione, occhio a dove si mette i piedi, perché e le mani soprattutto, non è esclusa la facile presenza di bisce o vipere. Qui a Ragola, nella sua maestosità e anzi, laggiù abbiamo il Monte Pelpi, quindi come quota in questo momento siamo più o meno uguali, mentre il Monte Ragola passa i 1.700, quindi un 300 metri più alto del Pelpi e del Monte Molinatico. Niente, questa è la parte finale del sentiero, è segnato per escursionisti esperti. Semplicemente perché nella parte finale, lassù, c'è qualche passaggio un po' esposto. Nella bella stagione si fa, come dicevo prima, occhio ai rettili, in inverno invece è diverso, col ghiaccio. E' molto facile scivolare. La, a mie spalle, Monte Maggiorasca e Monte Bue, Monte Nero, mentre di qua il Pelpi, il Penna, non il Pelpi. Il Pelpi resta qui dietro. Niente, bisogna salire, è inutile contarsi delle palle. E siamo in cima. Monta Ragola, Italia, Ecolomeo, 012. E adesso, la stazione, la radio per il proprio. CQ 40, CQ 40, CQ 40, Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile QRP, CQ Sota. Italia, Whisky 2, Maggolfecco, fa chiamate. Italia, Whisky 2, Maggolfecco, fa chiamate. IK1, LGU. IK1, LGU, QSL. Quasballo, QSL. Allora, 5-9, ti passo la referenza, Italia, Ecolomeo, 012, QSL. Italia, 0, Lima, Yankee, Oscar. Roger, Italia, 0, Lima, Yankee, Oscar. 5-9, QSL. Italy, Uniform 1, Papa, Zulu Radio. Roger, Italia, Uniform 1, Papa, Zulu Radio. 5-9, QSL. QSL, grazie, buon proseguimento. IK1, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile French, portatile India, Golf, uniform, portatile, 20 km, Genève. Florida 5, Tango, India, Lima. Roger, Florida 5, Tango, India, Lima. 5-9, QSL. OK, QSL, good morning, thank you very much for the Sota. You are 5-9, also, 59, near the city of Chamonix and my name is Stefan, Roger. HB9, Eco, Florida, Giulia, Alessandro. Oh, Roger, HB9, Eco, Florida, Giuliette, 5-9, QSL. Sì, perfetto, Alessandro, buongiorno, 5-9, mi dai la referenza, Italia, barato Eco, Romeo, 012. Roger, Roger, Italia, Eco, Romeo, 012, Monte Ragola, 1.750 metri. Un pochettino più bassa delle vette in zona HB9, a te il cambio. Il reta 4, Eco, Kilo, India. Oh, Roger, Italia, Zulu 4, Eco, Kilo, India, QSL. Italia, Norvegia 3, Giuliette, bravo. Avanti, Italia, Norvegia 3. Grazie, Italia, Norvegia 3, November, Giuliette, bravo. 5-9, più, Kappa. Charlie, Papa, Kilo, Italia, Zulu 5, Charlie, Papa, Kilo. Ciao, avanti. 7-7, Charlie, Papa, Kilo, 5-3, 5-4, 5-3, 5-4, 5-3, ciao, Alessandro. Ciao, 73, 5-9 per te, 5-9, un po' disturbato ma comprensibilissimo. Quarezzetta. 2 novembre, bravo, Wissi. HB9, Domodossola, Roma, Milano. Roger, HB9, Domodossola, Roma, Milano, QSL. QSL, con buongiorno, buona domenica, carissimo Alessandro. 5-9, anche per te, con coordinazione, di ringrazio. Ciao, 73, buona domenica, QRZ. Bravo, Wissi. Bravo, Wissi in the call, over. CK2, novembre, bravo, Wissi. Roger, Italia, Kilo 2, novembre, bravo, Wissi. 5-9, QSL. QSL, 5-9, grazie. Italia, Kilo 4, Venezia, Fiense, Bologna. Ah, ok, scusami, Italia, Kilo 4, Victor, Foxtrot, bravo. QSL? QSL, QSL, nome Andrea, avanti Alessandro. Allora, 5-9, Andrea, referenza Italia Eco, Romeo, 0-12, QSL? QSL, gas di mille, segnato tutto, buoni divertimenti. K2, Whisky, Zulu, Quebec. Allora, Italia, Kilo 2, Whisky, Zulu, Quebec. QSL? Italia, Zulu, 0, Alfa, Radio Lima. Un attimo, stand by. Italia, Kilo 2, Whisky, Zulu, Quebec. QSL? Vai, Moj. Vai, Moj. Il K2, Whisky, Zulu, Quebec, per me. Roger, 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 Roger. 5-9, referenza Italia Eco, Romeo, 0-12. 5-9, a te il cambio. Perfetto, arrivi molto bene. 5-9 anche per te, grazie, buon divertimento. Grazie, insomma. Ciao. Italia, Zulu, 0, Alfa, Radio Lima. Roger, Italia, Zulu, 0, Alfa, Radio Lima. 5-9, QSL? Perfetto, grazie. 5-9 anche da parte mia. Ci passo la mia referenza del giorno. Il teatro Italia, 727, Radio Mike. Buon traffico. Roger, Italia, 727, Radio Mike. Buon traffico anche a te, buoni collegamenti. QRZ? Italia, Zulu, 0, Alfa, Radio Lima. Allora, Italia, Uniform 2, Foxtrot, completami il call, scusami. Italia, Uniform 2, Giuliette, Foxtrot, Golf. QSL? QSL, Italia, Uniform 2, Giuliette, Foxtrot, Golf. 5-9, scusami, ma c'era un po' di disturbo. Ti confermo 5-9, Italia, Eco, Romeo, 0-12. QSL? Anche per te, complimenti, buon segnale qui a Milano. Ti auguro una buona domenica, 73. Allora, un Francia 4, avanti. Francia 4, avanti. Francia 4, Italia, Sartegna, Zulu. Francia 4, Italy, Sierra, Zulu. Roger, Roger. Roger, Francia 4, Italy, Sierra, Zulu. 5-9, QSL? Roger, Roger, QSL, 2x3, 3x3. 2x3, 3x3. Quebec, Sugar, Becker, Roger. Italia, Università 4, Oscar, Sierra, X-Ray. Allora, Italia, Università 4, Oscar, Sierra, X-Ray. QSL? QSL, Alessandro, se non sbaglio. Italia, Zulu, 4, Victor, Quebec, Sierra. Portabile, corretto? Affermativo, affermativo. Italia, Zulu, 4, Victor, Quebec, Sierra. Vinco quasi sempre il quasi che mi frega. HI, 5-9, eh, per te. K, 5-9, anche per te. Ciao. Italia, Kilo 1, Germania, Porto Rico, Germania. Buona giornata, qua da Francesco, U4, OSX, Bologna. Ti saluto, collega della zona 4. Avanti, Italia, Kilo 1, Golf, Papa Golf. Perfetto, Italia, Kilo 1, Golf, Papa Golf. Buona domenica, sei 5-9. Ah, 5-9, anche per te, eh, 5-9, più, più. Tanto lo Jesu, più del segno più non mette, ma arrivi perfettamente. A te il cambio. Perfetto, anche tu arrivi bene oggi. Grazie, ciao, buona attività. Buona domenica, ciao, QRZ. Ciao, ciao, ciao. Charlie in the call, over. ECO-ALFA-2, ECO-Charlie. ECO-ALFA-2, ECO-Charlie. Roger, ECO-ALFA-2, ECO-Charlie. 5-9, QSL. Ok, OSX-69, OSX-69, thank you. Thank you to you, my friend. 73, QRZ. Hotel Bravo 9, Foxtrot, Bravo Golf. Ok, Hotel Bravo 9, Foxtrot, Bravo Golf, corretto? Corretto, Alessandro, buongiorno. 5-9 per te, intanto il Ticino. Roger, 5-9 reali, eh, 5-9 reali. Ti saluto dal Monte Ragola, Italia, ECO-Romeo 0-12. Ciao. Ciao, sei tu, per il buon divertimento. Italia-Zelanda 1, Tango-November-America. Roger, Italia-Zelanda 1, Tango-November-America. 5-9, QSL. 5-9, grazie, buona giornata. Ciao, 73, mai fare stazione sopra un formicaio, mai. Q-RZ. Italia-Zulu 3, India Radio-Lima. Allora, Italia-Zulu 3, India Radio-Lima. 5-9, QSL. 5-9, Italia-Zulu 3, India Radio-Whiskey. Ah, sì, Roger, Italia-Zulu 3, India Radio-Whiskey. 5-9, QSL. 5-9, anche per te. Se sei su Ragola vai per Funghi. Eh, no, su Ragola sono nella zona proprio tutta pietrosa, quindi Funghi assolutamente niente. Ciao, 73, mi fa piacere che lo conosci il Monte Ragola. Sono della zona 4, io ero della zona 4. Italia-Zulu 2, Udine, Italia-Genova. Roger, Italia-Chilo 2, Udine, Italia-Genova, QSL. QSLissimo, 5-9, Valentino di Roma. Roger, 5-9, anche per te, Q-RZ. Italia-Università 3, Quebec, Florida-Charlie. Allora, Italia-Università 3, Quebec, Florida-Charlie, corretto? Sì, corretto, Alessandro. 5-9, 10 per te. 5-9, più-piu per te, eh, grazie, 73. A fianco a te, buona domenica. Q-Alfa 2, Delta Tango. Oh, Roger Manuel, eco-Alfa 2, Delta Tango. 5-9, QSL. Sì, vuoi un rumore, mi conferma nuovamente. Q-Alfa 2, Delta Tango. Q-Alfa 2, Delta Tango. 5-2, 5-2, riconfermo. Roger, 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 eco-Alfa 2, Delta Tango. Manuel, 5-9, 5-9, QSL. Sì, sì, 5-9, 5-9, grazie, vuoi attività, e qualità del Tango, un abbraccio. Ciao, 73, Q-RZ. K3, Hotel, Hotel Visto. Allora, Italia-Chilo 3, Hotel, Hotel, completa? V, Visto, HHV. Roger, Italia-Chilo 3, Hotel, Hotel Visto, 5-9, QSL. Italia-Uniforme 3, Quebec, 4-3, bravo, col. Allora, prima il collega Italia-Uniforme 3, Quebec. Completami il col. Sì, perfetto, Italia-Uniforme 3, Quebec, Foxtrot Alfa in QRP. Oh, Roger, Italia-Uniforme 3, Quebec, Foxtrot Alfa. 5-9, QRP per QRP, mi fa molto piacere, QSL. Sì, QSL, benissimo, 5,7, 5,8, Casanova del Garda Verona, benissimo, 73, buona continuazione. 73, avanti il collega Italia, chilo 2. Sì, tappa 2, Giulia, tango, sierra. Roger, Italia, chilo 2, Giulia, tango, sierra, 5,9, QSL. Italia, Zulu 3, bravo, Golf Lima. Allora, Italia, Zulu 3, bravo, Golf Lima, corretto? Corretto, corretto, Alessandro, Zulu 3, Bologna, Genova, Livorno, 6, 5,7, reali, in provincia di Treviso, QSL. QRZ. Italia, Zulu, chilo 4, Delta, Venezia. Allora, il collega della zona 0, avanti. Italia, Zulu, chilo 4, hotel Yokohama. Roger, Italia, Zulu, chilo 4, hotel Yokohama, 5,9, QSL. Allora, Zulu 3, ascoltato, 5,9, grazie. Grazie a te, 73, avanti il collega della zona 4. Italia, Whisky 4, Delta, Venezia, 6, 5,9 a Bologna. Ok, Italia, Whisky 4, Delta, Venezia, giusto il call? Sì, confermo, è corretto. Roger, Italia, Whisky 4, Delta, Venezia, 5,9, eh, 5,9 reali, grazie. Ciao, buona domenica. Italia, chilo 1, Romeo, Quebec, Quebec. Ok, Italia, chilo 1, Romeo, Quebec, Quebec, QSL. QSL, con il buongiorno, 6,59, qua vicino a Torino. Roger, 5,9 più per te, eh, grazie, buona giornata. Ciao, buon divertimento. Oh, buongiorno, Italia, Zulu 5, Giuliette, Lima, Foxtrot, 5,9, signor Claudio. 1 più 1, radio, via. Italia, Zulu 5, Giuliette, Lima, Foxtrot, 5,9, QSL. Italia, Zulu 5, Giuliette, Lima, Foxtrot, 5,9, QSL. Ciao, Alessandro, è un giorno che ascolto bassissimo, di essere in zona non particolarmente buona per me. 5,9 comunque anche per te, di 9. Ciao, Alessandro, ho scorto, ciao. Ciao, 73, QRZ. Italia, Whisky 1, Romeo, Lima, Charlie. Ok, Italia, Whisky 1, Romeo, Lima, Charlie, 5,9. Perfetto, 5,9 anche per te, il tuo segnale sta salendo. Con i minuti fa eri 5,7, adesso sei quasi 5,9. Complimenti, buona attività e buona domenica. Ciao, 73, QRZ. Nominativo, per favore. Ah, certamente. Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Barrato portatile, in QRP. Attivazione Sota, Italia, Eco, Romeo, 0,12. QSL. Italia, Kilo 2, Italia, Quebec, Danimarca. Italia, Kilo 2, Italia, Quebec, Danimarca. Scusami, è vero, ogni tanto bisognerebbe ripetere il nominativo. 5,9 reali per te, QSL. Ciao, 1, più 1, Radio, India, Messico. Allora, Italia, Whisky 1, Radio, India, Messico. QSL? QSL, QSL, 5,5, 5,5. Giulio, 3,5, 4,4, Sierra, Golf. Senti davanti, ciao. Ciao, salutami il mare. Ciao, 73. Ciao, ciao. Kilo 2, Giulio, Tango, Sierra. Italia, Kilo 2, Giulio, Tango, Sierra, 5,9, QSL. Italia, Whisky 4, Charlie, X, Ray, Kilo. Ok, Italia, Whisky 4, Charlie, X, Ray, Kilo, 5,9, QSL. QSL, Alessandro, perfetto. 5,7, 5,9 per te il segnale. Siguo anche il tuo canale YouTube. Ciao, 73. Ciao, 73. Poi l'opposto è il video dell'attivazione. Ti riascolti così ti ascolti come arrivavi. Ciao, 73. Italia, Quebec, 5, Mike, Sierra. Mike, Sierra, over. Italia, Quebec, 5, Mike, Sierra. Roger, Italia, Quebec, 5, Mike, Sierra, 5,9. Sai dell'alternata che ti porti a dietro nel microfono? Eh, lo so, questo giocattolo non è perfetto. Ciao, Alessandro, buona giornata. Ciao, Claudio, buona giornata anche a te. Italia, Kilo 1, Radio America Europa, QSL. Ok, Italia, Kilo 1, Radio America Europa, QSL. Sì, QSL, QSL, anch'io in QRP, dove sei? Allora, innanzitutto il segnale 5,9 reali. E 5,9 reali sono, referenza sota, Italia, Ecoromeo 0,12, Monte Ragola e in mezzo alla provincia di Parma, Piacenza e Genova. QSL? Sì, bene, QSL, 5,7, 5,8 rapporto per te sul dipolo rotativo. Dai, buon divertimento, sarai al fresco, quindi ti rileviamo. Ciao, 73. La temperatura è gradevole, solo che non c'è di ombra, quindi sono in pieno sole. Ciao, 73. Ciao, ciao. Italia, Università 6, Oscar, Lima, Mike. Roger, Italia, Università 6, Oscar, Lima, Mike. 5,9. Sì, perfetto, 5,3, 5,4 per te qui a nord delle Marche. Grazie del contatto, complimenti per i tuoi video e buona giornata. Ciao. Ciao, 73. Grazie a te che rispondi alle mie chiamate. Ciao. Allora, signori, io farei le ultime chiamate perché sto letteralmente cuocendo quassù. Mi spalmo un po' di burro e rosmarino, poi sono a posto. CQ Sota, CQ Sota, Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile, QRP. Niente, vi ringrazio, signori. Da Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile, QRP. Attivazione Sota, Italia Eco Romeo 012, Operatore Alessandro. Vi ringrazio per la partecipazione, grazie anche agli SWL. 73, buona domenica. Allora, direi che è andata molto bene l'attivazione del Monte Ragola, Italia Eco Romeo 012. Nonostante non ci fosse copertura telefonica per fare lo spot sul cluster, i contatti sono passati all'inizio bene. Poi ringrazio il collega che mi ha fatto segnalazione e ovviamente c'è stato un discreto pileup. Mi ha fatto anche molto piacere che la Vetta, cioè la zona, a differenza degli anni scorsi, incomincia ad essere frequentata. A me non dà un fastidio ai turisti in Vetta quando faccio attività radio. Se qualcuno chiede informazioni, io ben volentieri le do. Una cosa che probabilmente non l'ho mai ricordata, almeno io la vedo così, quando mi chiedono la finalità di questo tipo di attività, importatile eccetera, beh, io ricordo sempre che in situazioni di emergenza, casi di calamità naturale, e si ha necessità di installare una stazione radio alla svelta, beh, se uno fa sempre attività barrato PI, sa come fare. E sinceramente a casa in 5 minuti lo zain è pronto e impiantare una stazione barrato portatile ci metto veramente poco. È subito operativo. Quindi è un tipo anche di allenamento con quelle finalità lì. Certamente se uno dovesse operare in V o in U viene molto bene salire su una cima, su una vetta e usufruire ovviamente del maggiore orizzonte ottico. Tutte le riprese contro sole che non si vedrà un belino di niente. 73.